Siamo in posizione di patente, vediamo bene. Grazie. Il programma te lo sei studiato, molto bene, si vede subito, quando uno studia Scalefresh si vede subito. Ti piaciuta la lezione? Sì. Beh lui non l'ha fatta. Beh lui non l'ha fatta, però confido che anche te prima o poi li metterai. Dice a papà che sei bravo, ti voglio vedere. Lui è il più bravo di noi. Ok, va bene. Ti metto però quando mi vorresti. Certo. Papà quando ci vediamo la prossima volta? Speriamo, dipende da loro. Quando ci vediamo ragazzi? Quando partiniamo ancora? Domani. Domani sono qua anche domani alle 11. Non lo so. Forse domani va bene. Vuoi le patatine? Sì. Come le vuoi? Bene. Ok. Ciao. Ciao.